... Fashion Beach in tour con aperitivo. In spiaggia al tramonto a suon di musica per conquistare il pubblico dei giovani ed incentivarlo a visitare il Cilento Outlet Village di Eboli. È iniziato ieri con la prima domenica di luglio il gran tour di intrattenimento, musica, giochi e concorsi per un'estate di divertimento sulle spiagge più in delle costiere cilentane e salernitana, con la selezione dei migliori DJ promosso dal Cilento Outlet Village, il brand del gruppo Irgen Re, specializzato nella gestione di spazi commerciali. Un vero e proprio villaggio della musica e di divertimento sulla sabbia, quello che è andato in scena con una partecipazione di tantissimi giovani, oltre le previsioni degli organizzatori sulla spiaggia dell'Iduacapulco di Ponte Cagnano. Quest'anno partiamo con un programma innovativo che accompagna il nuovo volto del Cilento Outlet Village, che per noi nasce ufficialmente a marzo dello scorso anno. Quindi un programma che porta l'Outlet sulle spiagge per conquistare un nuovo pubblico, un pubblico giovane, un pubblico che non necessariamente conosce già il centro, ma che sarà motivato per la prima volta a visitarlo. L'iniziativa si rivolge ad un pubblico sempre più giovane e amante del divertimento e che nel tempo sta dimostrando un gradimento crescente per le proposte commerciali del Cilento Outlet Village, che si arricchisce di nuovi marchi. Una speciale è quella lanciata con il Fashion Beach Tour per quanti, partecipando al photobook, possono vincere una gift card. Diamo la possibilità al pubblico di scattare una foto che da lunedì prossimo sarà postata sui nostri social, canale Facebook in particolare, e la foto più votata, quindi quella che avrà il maggior numero di like, consentirà al protagonista di vincere una gift card del valore di 200 euro. Ma i concorsi non finiscono qui, perché a breve ne partirà un altro ancora più interessante, un maxi concorso che durerà fino al 31 dicembre 2017, che prevederà alla fine di ogni mese, quindi fine agosto, fine settembre, fine ottobre, novembre e dicembre, l'estrazione per un premio finale che corrisponde ad una gift card del valore di 1000 euro. Ma il divertimento non finisce qui, perché proseguirà all'interno del centro con il programma di concerti. Il 22 sera ospiteremo il grande Alex Britti, il 29 luglio i Tiro Mancino e il 6 agosto i Rovazzi. Tutti i bambini verranno a comandare con lui all'interno del nostro centro. Ecco, queste sono le promozioni che accompagneranno un po' i bagnanti dei vari lidi della costa salernitana, ma ci sono tante promozioni ovviamente per i clienti e per i visitatori del Cilento Outlet Village. Sì, ricordiamo che a partire da ieri sono ormai iniziati i famosi e a tanto attesi saldi, per cui già da ieri abbiamo degli sconti vantaggiosi fino al 50%, in alcuni casi anche fino al 70%, ma vorrei ricordare un'altra occasione importante per fare il shopping comodamente. Durante le serate dei concerti del 22 e del 29 di luglio daremo vita al late night shopping, cioè la possibilità di fare shopping fino alle 23, quindi guardare il bellissimo concerto e fare shopping con calma. Ad ideare e realizzare il Fashion Beach Tour, Roberto Iannelli, che dopo la prima a Lido Capulco di Ponte Gagnano con DJ Taiwan è pronto ad allestire la prossima tappa cool dell'estate domenica 9 luglio a Lido Made in Italy di Eboli con DJ Alaia e Gallo in console, mentre domenica 16 luglio la tappa a Lido Nettuno di Pestum vedrà come ospite il conte del grande fratello Filippo Nardi. Sarà invece sabato 22 luglio il Lido Le Serre di Mare di Acciaroli a chiudere il Fashion Beach Tour con il principe delle notti partenopeo Dario Guida. Il Cilento Outlet Village si sta veramente giorno dopo giorno ingrandendo sempre di più. Tanti sono i brand che stanno entrando all'interno del centro e stanno facendo veramente un ottimo lavoro. Io ho avuto il piacere, sto avendo la fortuna di lavorare con loro da un anno come agenzia esterna e sto vedendo realmente il tantissimo lavoro che stanno facendo e il tanto sacrificio e passione che ci mettono nel far crescere un posto che già di suo è bellissimo perché è un incanto. Ma stanno facendo un ottimo lavoro e io sto cercando di dare il mio piccolo contributo. In questo tour ci affiancano anche tanti altri partner sempre del centro e del Cilento come il McDonald's, abbiamo Sikme, Energie e Gas e poi abbiamo anche la Ford. Tre grossi partner insieme ad Aquafarm, quattro grossi partner che ci affiancono in questa avventura come dire, spinta dal Cilento Outlet Village. Per la prossima tappa cosa c'è da attendersi? Tante novità perché, voglio dire, con la mente geniale del marketing del Cilento Outlet insieme alle communication, fusi insieme, fanno veramente tante belle cose. che chiace lo senti? ma stia va avanti Grazie a tutti